Il loro della Chiesa, un presepio vivente, è sempre quello dell'evangelizzazione, perché attraverso il presepio vivente si fa sempre la storia dell'incarnazione di Gesù. E così la gente che verrà a visitare il presepio vivente si farà memoria di quello che di solito la Chiesa insegna intorno alla festa di Natale. Venga che anche il paroco faccia parte di questa verissima e grande manifestazione. Grazie 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 Grazie